Edin Dzeko. Buongiorno interisti. Edin Dzeko ha fatto un gol straordinario, pazzesco, contro la Francia. Un gol che lo riabilita di nuovo, se mai fosse stato in dubbio, tra i grandi, grandi, grandi campioni. Quindi un acquisto assolutamente straordinario. Sapete benissimo che sul fronte attacco qualcuno ha già parlato del sostituto di Dzeko, purtroppo. L'Inter è un po' sempre sotto attacco, quindi è finita la campagna acquisti, dove l'Inter ha preso un voto sui media, secondo me, un po' troppo basso, perché merita un pochino di più. Dopodiché Dzeko, ieri gol straordinario, pazzesco, con la sua nazionale contro la Francia. Un gol da bomber puro, un gol totale. Dzeko invece dovrebbe essere già messo in discussione, perché c'è Scamacca, perché è Natale, perché questo, perché quest'altro. La verità è che l'Inter, quindi buongiorno interisti, l'Inter non solo è attaccata sul fronte di Dzeko, che continua a fare gol pazzeschi, ma non regge tre partite, allora si parla appunto di Scamacca a Natale. Poi c'è il discorso Sanchez, sul quale l'Inter ha fatto muro, dicendo Sanchez c'è e sarà uno di noi. E io penso che un attacco Dzeko Lautaro, un Lautaro rinvigorito, un Lautaro con rinnovo, un Lautaro felice, un Dzeko felice che dice mi stiamo di essere qua nella vita, un Correa felice. Noi abbiamo attaccanti felici di essere all'Inter, senza contare che Satriano dà l'anima per dimostrare che è un titolarissimo. E poi Sanchez, ricordatevi che Nino Maraviglia è stato uno dei pochissimi giocatori a giocare e ad essere voluto da Messi perché giocasse di fianco a lui. Sapete Messi quanto rompe le scatole per i suoi partner d'attacco, quanto se non gli va bene un Griezmann alla fine finisce che o avrà lui o va via tutti e due, o succedono casini, quanto sia importante per Messi ver di fianco un giocatore che gli piace, vedi Lautaro, appunto vedi Nino Maraviglia. Se è recuperato, nessuno in Italia ha un attacco così forte, soprattutto dopo la dipartita di Ronaldo. Quindi prima di passare alla Juve che è stata contestata sonoramente dai tifosi, perché la Juve, ora leggeremo insomma qualche striscione, comunque il riassunto è che la squadra è stata distrutta, smantellata, pesa, pesa la ferita della Dio di Ronaldo, tra l'altro felice, dice non potevo far scelta migliore che andare allo United, quindi cita Fergus, ieri un Ronaldo pazzariello, che tira schiaffi, sbaglia rigori e poi fa doppiette e record. Un calciatore, come diceva ieri il Menghi, che saluto per il super video di ieri, che anche quest'anno ovviamente garantirà parecchi gol. Povera Atalanta, che si troverà nel girone col Villarreal, campione di Europa League, e con lo United di Ronaldo, Fernandes e compagnia cantante. Tornando all'Inter, sono tutti felici perché hanno fatto più 146, quello che volevano era il grano, ok? E il grano è arrivato. Quindi adesso senza fare ironia, insomma ci sono articoli che dicono che l'Inter ride, perché gli obiettivi economici sono stati raggiunti. La società è stata messa al sicuro e questa è una cosa che abbiamo passato momenti brutti, sappiamo benissimo il progetto Inter-Spac, veniamo da una storia morattiana, ma anche da una storia di pellegrini fra i soli gente che all'Inter ha dato tutto. Però in questo momento sappiamo che esistono difficoltà e non solo nel calcio. Avete visto al Barcellona che cosa sta succedendo? Il Barcellona, dicono le fonti ufficiali, se al Barcellona si danno via praticamente a gratis Messi, Suarez, Griezmann in pochi mesi, vuol dire che la situazione è serissima. Infatti saltando appunto da un argomento all'alto, ma cercando di tenerli legati, non si capisce come la Juve non sia arrivata a Pjanic, che era una richiesta di Allegri, c'era la volontà di Pjanic di tornare, evidentemente il Barcellona non poteva pagare metà dell'ingaggio e la Juve non se l'è sentita. E allora ecco che qualche manumura di Allegri c'è. Attenzione perché Allegri è un finto calmo, Allegri che a me è personalmente simpatico, e lo sapete sempre, quindi lo dicevo prima che andasse la Juve, lo dicevo quando ero al Minan, cioè Allegri è comunque simpatico, però è un finto calmo. Tutta quella calma che ha dimostrato dopo Juventoli è tutta falsa, falsa, nel senso falsa come la falsa partenza della Juve. Dicevo Juve contestata perché i tifosi della Juventus si aspettavano una, non una grande campagna elettorale, ma una campagna elettorale, sì una campagna elettorale, una campagna, qui stavo leggendo qua, stavo leggendo qua, campagna elettorale, una campagna acquisti che andasse innanzitutto a riparare, a riparare perché il centrocampo della Juve è rotto da anni, e invece anche a centrocampo lo Cateri non basta, Pjanic non arriva, davanti va via Ronaldo, uno si immagina, è vero che è andato via alla fine, ed è vero che forse la Juve credevano veramente di poterlo tenere, anche se le notizie che noi avevamo erano diverse. La Juve ha preso Keane, che non è vero che è così scarso, però è anche vero che, insomma, rimpiazzare uno come Ronaldo o non rimpiazzarlo fa la differenza poi nel giudizio dei tifosi. Poi c'è anche una polemica allo stadio, per la questione che lo stadio sembra essere diventato, non ho capito se lo stanno trasformando in un salotto, e quindi quella è una polemica, insomma, che c'è in parecchi stadi, insomma, mi raccontavano in Spagna, ho fatto una live con i ragazzi di Barcellona, mi dicevano che il Camp Nou praticamente prima aveva, insomma, una specie di tifoseria dietro a una delle due curve che si sentiva, mi pare che si chiamassero i Bois-Chos-Nois, un nome così, e invece anche a Barcellona mi raccontava, ragazzo che vive là, che spesso si collega, perché a Barcellona regna il silenzio, è un salotto e è surreale vedere le partite, cosa che invece non ho visto a Parigi, dove, vi dico la verità, al di là della pagliacciata, al di là che tutti si rosica, al di là, al di là, al di là, però la presentazione di Donnarumma, Hakimi, Vainaldo, Messi e Ramos è stata spettacolare, anche nel sonoro dei tifosi parigini, che, alla faccia di quanto magari la gente pensi, sono in Francia tifosi caldissimi, ricordatemi che dal Nizza al Marsiglia, a parte le ultime cose non tanto belle che sono successe, però Marsiglia, il velodrome, io ero stato tantissimi anni fa, negli anni 90, quando Marsiglia dominava l'Europa, a vedere il velodrome, in un viaggio in Costa Azzurra e oltre, insomma, era una tifoseria caldissima, Parigi idem e tante tante città, insomma, da Bordeaux, insomma, non è proprio, Francia è un bel campionato a livello sonoro, quindi c'è questa trasformazione un po' che coinvolge tutti gli stadi, cercando un po' di trasformare in salotti, quindi tante polemiche a Torino, ma soprattutto sulla squadra, Agnelli, nonostante tutto, è sottotiro per quello che ha fatto, probabilmente il ciclo Juve, un pezzo del ciclo Juve si è concluso senza il grande obiettivo che era la Champions, che è sfuggita, insomma, parecchi anni e ora, che sembra lontano non per la Juve, ma per tutti, perché la Juve non è l'unica a vedere lontano la Champions in questa Europa, dove 3-4 squadre in pratica fanno una Super League, adesso comincia a essere, insomma, così, in fase di rinanamento di ricostruzione ed evidentemente i tifosi non accettano questa ricostruzione e soprattutto pensano che nonostante questi addi si potesse fare meglio, insomma, dopodiché è chiaro che incide anche la brutta partenza sul mercato. Quindi dicevamo, insomma, il saldo positivo dell'Inter ufficiale, invece tornando alla nostra squadra, è di, questo è un articolo di Cavasini che vi invito a leggere su FC Inter News, 124 milioni, il più alto di sempre di una società di Serie A in una singola sessione, il più alto di sempre in una singola sessione di una squadra di Serie A. Tra l'altro, appunto, a parte Van Oysen, a 16 milioni l'Inter, le cifre le abbiamo date, insomma, qui dice, tra l'altro che Sossios ha portato 21 milioni lo sponsor, 12 da Lenovo, e 6 e 6, anzi, 6 da Lenovo, 12, sì, sì, 12 da Lenovo, 6 e 6, digital biz, mamma mia, qui in totale 33 milioni. Quindi, ottima situazione anche per lo sponsor, complice anche, ovviamente, la squadra che è campione d'Italia. Ok, qui c'è un altro affare, ecco, Zittare, digital biz, affare da 85 milioni di euro, leggete l'articolo, dopodiché c'è il discorso Inter. Post anda, Onana, sembra preso, ma io non ho fonti, quindi non so nulla, ci sono gli occhi su Meret, che si è fatto male al Napoli, e anche su Cragno. Scalpita, Radu per giocare, ovviamente, dopo Dzeko Vecchio, Andanovic è stato messo in discussione per quello che è successo in casa col Genoa, per quello scapuscio e anche per il discorso di Verona. Mi sembra un po' troppo, attenzione perché Anda, che non è certo un fenomeno ultimamente, si esalta nelle grandi partite, logico che questo problema noi ce l'avevamo anche per l'età di Andanovic, per qualche lorio di troppo, però stiamogli vicino, perché sennò cominciamo a fare il gioco della concorrenza. L'Inter è virtualmente in corsa per la riconferma dello scudetto, quindi calma e sangue freddo. Non è che in Italia brillino tantissimo i portieri, quindi andiamo per gradi. Ora andremo a fare, con risparmi, i rinnovi di Lautaro, Barella e Brozovic, bastone già rinnovato, sono tre rinnovi importantissimi, Barella assolutamente fondamentali, Lautaro diventerà l'icona dell'Inter e già si sente importante. Lukaku era ancora un brante nello spogliatoio, questa cosa l'ho sempre notata, perché mi piacciono le dinamiche di gruppo, quindi Lautaro ha preso più, non so, sembra anche molto più sorridente, poi c'è il suo amico Tuku, con cui farà coppia in Argentina, probabilmente in attacco, Brozo che ormai è un'icona dell'Inter e così insomma questi soldi serviranno per il rinnovo. A discorso portiere, dicevo che sul portiere Conte era stato il primo a voler mettere parola su questo discorso, infatti si era parlato all'epoca addirittura di un grande tentativo di poter soffiare Donnarumma non solo al PSG ma soprattutto alla Juve, Juventus che probabilmente come dicono in tanti e potrebbe essere vero ora che Ronaldo non c'è più avrebbe potuto investire in un grandissimo portiere, cosa che avrebbe anche calmato la piazza, insomma, non certo i tifosi del Milan che sono arrabbiatissimi. C'è un editoriale bello, Messi e Ronaldo e poi c'è il saldo dell'Inter, il racconto di un calciomercato farsa, io queste cose non le leggo neanche perché le ho scritte, cioè prima di leggere le ho scritte io anni fa. Ok, Vieri senza Cere 7 Inzaghi è favorito, Mourinho fa il doppio gioco e poi questo articolo appunto sempre di Cavasini che recita il discorso Andanovic o Ravacil ma non peraltro, non perché qualcuno arriva da fuori ma perché Radu sembra che sia veramente in grado di fare di fare la differenza e di giocare e di essere pronto, insomma, l'abbiamo visto anche in qualche amichevole, insomma, sembra un Radu tra l'altro che ha molta fiducia nel giocare con i piedi, ok? Ok, adesso parola nazionale, Panchinaro, ve lo faccio vedere, Panchinaro al PSG titolare con l'Italia, la strana delle strati di Gigio, la strana delle strati di Gigio vuol dire che quando mi dite le fonti, le fonti, bla bla bla, che non ci sono, le fonti, le fonti dicono una cosa che oggi è strana, io però l'ho anticipato due mesi fa, quindi due mesi fa, anzi di più, ho detto guardate che sarà un Panchinaro, poi dopo, chi lo sa, Navas, 34 anni, giocherà, io vi dico che Donnarumma è andato là e parte dalla panca, poi, voglio dire, abbiamo appena parto di Andalovic, però vi dico quello che so dalle fonti delle fonti, no, no, Donnarumma, Navas è vecchio, Navas è qua, sì, amico e ospedatorio, però Donnarumma è fenomenale, campione d'Europa, eccolo qua, Panchinaro al PSG titolare con l'Italia, la strana delle strati di Gigio, quindi se è strana è perché cazzo, strano, strano, se è strano ti vai a rivedere i video di Fabio Vergomi dove ti dicevo perché invece la cosa mi era stata comunicata con largo anticipo perché le fonti delle fonti esistono e sono uno di quegli orgogli di questo canale insieme ai video del Menghi che battono anche le fonti delle fonti. Ok, le notizie di oggi più o meno sono queste, adesso arrivano i nazionali, ci godremo l'Italia a campione d'Europa, insomma, Radu pronto a prendersi l'Inter, l'Argentina e poi la firma con l'Inter, tutto un articolo bello sulla gazzetta sui bomber dell'Inter che sono tutti in prestito, ovviamente con un'attenzione particolare a Sebastiano Esposito che, devo dire, in Svizzera sta facendo l'ira di Dio, un saluto a Sebastiano Esposito, una punizione pazzesca, molto, molto simile a quella tirata da Tonali, forse ancora più bella per la classe con cui, non che Tonali non abbia classe, Tonali è un calciatore pazzesco, però, grandissima punizione di Esposito. Griezmann, Griezmann, attenzione, va via dal Barcellona con uno strascico polemico, ok? Ho detto, ho dato tutto per questa maglia e me ne vado triste per non essere riuscito a godere del vostro supporto dagli spalti, ma sono orgoglioso di essere stato uno di voi. C'è qualcosa che non è mai scattato tra Griezmann e il Barcellona e quindi probabilmente un po' per tornare dai suoi tifosi che non erano contenti di vederlo andare a Barcellona un pochino perché così non è mai riuscito forse a entrare in loro cuore. Dice, orgoglioso di essere stato uno di voi, però, insomma, non ho mai avuto un grande supporto qui a Barcellona. Probabilmente l'atletico, come diceva il Menghi, andrà andrà insomma fa ridere un video bellissimo di Simeone che vede entrare Griezmann a Barcellona in un Barcellona atletico ed è bellissimo la faccia che fa il ciolo che ride che dice questo era con me veramente veramente fa ridere. Ora mi avete chiesto di parlare degli svincolati ma non penso che abbia molto senso e molto interesse queste qua sono le notizie principali di oggi poi nazionali insomma il ritorno dei campioni d'Europa che avranno quattro giornate quello che volevo dire era che il Verona sta pensando a Ribery e io non so quanto costi Ribery però Ribery ragazzi io un anno di Ribery stile figo me lo farei anche qua su varie cose c'è il discorso di Andanovic poi c'è Barone da Fiorentina che parla insomma per Vlaovic sono arrivate offerte importantissime ma è rimasto qua il tabellone di Coppa Italia e vediamo un po' insomma poi ci sentiamo in pomeriggio se esce qualche indiscrizione Montella torna ad allenare e poi come sempre calcio mercato Mourinho è il re degli spendazioni questo per dire che insomma poi alla fine sai è facile dire alleghi 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 poi appena non spendi si incazza sappiamo benissimo quanto spende Guardiola quanto spende anche Ancelotti quanto spende Allegri ma Mourinho praticamente è l'uomo che sembra nella storia del calcio riusciva a spendere due miliardi a tutti quelli che ha quindi ci siamo anche noi no? Giuseppe Mourinho 1.7 mamma mia mamma mia vi consolo se volete vi consolo in questa classifica che è su OneFootball ok? dove ci sono Pellegrini Simeone Berghain Benger Verde Benite Sanlegri non c'è Conte visto la faccia di quello che spende tanto non c'è Conte che per anni ha voluto magari calciatori come Darmiano Giaccherini quindi non c'è Antonio Conte che però ha vinto non come loro ma beh rispetto a questi qua qualcosa in più ha vinto rispetto ad altri un pochino meno soprattutto in Europa un abbraccio Forza Inter Forza Inter